Anche le opere artistiche esposte allo spazio cima a Roma in occasione del settantesimo compleanno documentano l'influenza, la suggestione esercitata dall'artista dalle pupille dissimili su molti suoi contemporanei. Quel volto scarno, quello sguardo affilato, quel look anticonvenzionale fanno di lui uno dei personaggi più iconici dello Star System a cavallo tra due millenni. Grazie a tutti Sono molto felice di essere accreditati, non era facile andare a fare le foto. Scusate qui Anche le foto sono in un concerto agenzialato, è in un concerto agenzialato. è un po' di come ci ha lavorato, come è come voi che veramente sono creatati di istante per istante, l'hanno riuscita a catturare. Grazie a tutti, 3 2 7 7 9 10 11 11 12 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info